Ciao, mi chiamo Anthony e sono il tuo terapeuta. Come ti chiami? Mi chiamo Colin. Colin, piacere. Piacere. Io scrivo tutte le informazioni nel mio libro. Sì. Di dove sei? Sono di Phoenix, in Arizona, ma io abito nella Flagstaff perché io sono una studente. Bene. Ho abitato nel Phoenix, in Arizona, per tre anni, ma io abito anch'io nel Flagstaff, in Arizona, per lavoro e perché mi piace in caldo tempo molto. Sì, sì. Molto buonissimo. Buonissimo, sì, certo. Come ti senti oggi? Io non sto bene. Non sto bene. Dini. Oddio. Oddio, certo. La mia moglie, lei ha partito a me ieri. Lei ha preso la mia carne, ha preso i miei figli e ha preso mezzo di i miei soldi. Io sono molto triste, molto triste. Sì, io vedo che tu sei molto triste. Mi dispiace. Vuoi un Kleenex? No? No. Bene. Come ti senti? Io sento buono perché ieri è un giorno buonissimo. Prima, mi sono svegliato alle 9 e 30 minuti dopo, io sveglio. Mi alzo. Sì. E' il mio favorito. Dopo, io mi lavo i denti e dopo faccio la doccia. E finalmente, mia moglie, mia moglie e io. Tu hai una moglie? Sì. Una moglie? Sì. È bellissima. Bella. Molto bella. Sì. Ci siamo sposati dieci anni passato. Dieci anni? Sì, dieci anni e il nostro matrimonio è buonissimo. Bellissimo? Sì, bellissimo. Bellissimo, sì. Molto bella. Sì, similare. Secondo, scusa, scusa. Oh, no, no problemi. All right. That was actually pretty good, because, yeah, we...